Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati sul mio canale YouTube da Elio. Oggi giornata piovosa, tanto per cambiare, un po' sole, un po' pioggia. Oh, siamo stufi adesso, è vero di pioggia. Ok, ok, allora. Oggi vi dobbiamo narrare una cosa, allora. Attenzione. Siorre, siorre. Allora. Allora, è forte sta cosa. Io vado a vedere spesso una band musicale. Quanto a tutto sono anche, ormai diventati i nostri amici, diciamo. E quindi, cosa succede? Che loro fanno musica anni 80, 90, così. Della bella musica, quella anche da tipo discoteca, dei miei tempi. Quindi, ad un certo punto, quasi verso la fine, diciamo, cosa capita? che loro fanno la canzone di The Village People, quella lì, macho, macho man, quello lì. Quindi, cosa accade? Che loro, quando si incomincia questa musichetta qui, praticamente, questo è quello che incomincia. loro incomincia a guardare, cantante e le cantanti, perché devono sempre prendere una persona, o anche due persone, o è capitato anche tre persone, sul palco per fare i macho man. Quindi, cosa capita? Che la gente cominci a guardarsi intorno, loro guardano chi prendere. Allora, cosa fanno? Vieni tu, vieni tu, ti prendono. Poi io, quasi sempre, a me prendono, si può dire, ormai spesse volte. E poi è inutile che uno si nasconda dietro, io tante volte cerco di nascormermi per non farmi prendere, che non mi chiami, non mi nascondo dietro l'amico, l'amica, faccio finta di niente. E certe volte non sono riuscito neanche a defilarmi, non solo una volta mi sono defilato. Comunque, parlando così, allora sali sul palco, e loro incominciano a farti fare così, così, sempre così, per far vedere il muscolo. E alla fine cosa succede? Che loro, i tuoi cantanti ti prendono sulla maglietta, quindi tu rimani a torso nudo, logicamente, davanti a tutto, alla gente che ti sta guardando. E tu ti muoverti e fare sempre questo macho, macho man, ed essere, oltretutto è difficile riuscire a seguire i loro passi, i loro movimenti, perché loro sono più veloci di me, quindi, come fai, i cantanti? Comunque, alla fine, ti prendi l'applausi della gente che c'è lì che sta guardando. Ma sì, alla fine, tante volte lo fai così per ridere, per divertimento. E questa è la storia che vi voglio narrare oggi. E con questo io, oggi, vi saluto, vi mando un grosso braccio, e ci vediamo nei prossimi canali, sul mio... Stavo pensando... Ah sì, giusto, sul mio canale YouTube, giusto. E allora io vi saluto con... Macho, macho man... What's macho man... Ok, 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 vi saluto. Io oggi scappo, vado, ciao ciao, ciao ciao, ci vediamo, ciao!